Stagione chiusa, palla a spicchi che rotolerà in futuro, per ora no. L'UniBasket Lanciano, alla luce della delicata situazione che si è creata in Italia coinvolgendo tutto il mondo dello sport a causa del coronavirus, ha infatti comunicato la chiusura anticipata della stagione sportiva 2019-2020 in ogni suo livello, da quello agonistico passando per il settore giovanile e fino alle attività del MiniBasket. Una scelta, si legge nel comunicato stampa, resa necessaria e doverosa soprattutto per garantire, tutelare e difendere nella miglior maniera possibile la salute psicofisica degli atleti, degli allenatori, di tecnici, dirigenti e dei giovani che quotidianamente operano nel gruppo sportivo Unibasket. Non vogliamo creare ai nostri ragazzi false illusioni di ritorno alla normalità in breve tempo, si legge, specialmente per una società come la nostra con tanti atleti provenienti da diverse nazionalità. Purtroppo la realtà è dura, le nostre rappresentative non si allenano da circa 15 giorni e saranno totalmente ferme almeno fino al 3 aprile prossimo, essendo chiuse strutture, palazzetti, palestre private, campi all'aperto. L'UniBasket inoltre invita la Federazione Italiana Basket a non perdere tempo e a dichiarare terminata la stagione sportiva in corso, adottando le misure idonee come potrebbe essere la neutralizzazione della nata sportiva o provvedimenti simili. La società lancianese dunque ha sentito il dovere morale di fermarsi per riflettere e dare un segnale forte a tutto il movimento nazionale.